Nuovo aggiornamento da Firenze Smart, bentrovati da Mauro Ciutini. Coda per un incidente, siamo a 2 km al momento in A11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sempre in A1, rallentamenti tra Monte Catini Terme e il Bivio A11-A1 Milano-Napoli direzione Firenze. Prudenza per materiali dispersi sulla carreggiata, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandici e Lastra-Signa in direzione Livorno. Si raccomanda prudenza per chi viaggia in A1 al momento segnalata pioggia tra Sassomarconi e la variante di Valico. Lavori a Firenze, via nuova dei Caccini, oggi in programma un intervento con piattaforma aerea fino al 29 luglio, orario 9.17, la strada sarà chiusa. Non ci sono altri aggiornamenti grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.